Il coprifuoco non basta più contro il coronavirus e alcuni paesi in Europa si preparano al lockdown nazionale o mirato in diverse regioni. Un tentativo disperato di frenare la seconda ondata che sta colpendo indiscriminatamente il vecchio continente dalla Svezia alla Gran Bretagna, con l'OMS che segnala un allarmante aumento del 40% delle vittime da Covid-19 rispetto alla settimana precedente. Il primo paese europeo a tornare in lockdown potrebbe essere la Francia, dove ormai si viaggia oltre 50.000 nuovi casi ogni giorno. Il governo francese, dopo il fallimento del coprifuoco decretato due settimane fa, prevede un confinamento a livello nazionale per un mese a partire dalla mezzanotte di giovedì, secondo indiscrezioni che si rincorrono alla vigilia di un discorso alla nazione previsto per stasera alle 20 del presidente Emmanuel Macron. Chiusure previste anche in Spagna, ma per il momento soltanto a livello regionale e lo stato d'emergenza varato dal premier Pedro Sanchez qualche giorno fa ha dato infatti la libertà alle regioni di chiudere i propri confini se necessario. Dati preoccupanti anche in Gran Bretagna, che ha visto un balzo di morti nelle ultime ore, e in Germania. Berlino teme di raggiungere i 20.000 contagi giornalieri già nel prossimo weekend.